Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141b, fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Un curriculum importante, Inzaghi, quindi purtroppo per lui dopo sette partite non comincia. Secondo lei è la scelta giusta per ripartare dopo un'area difficilissima a livello di tutto, risultati, ambiente, insomma, come si riparta? Intanto un pensiero va di Inzaghi che ha fatto benissimo in questo ultimo periodo, cioè è entrato dentro in un momento particolarmente difficile, lui ha dato serenità, tranquillità senza stravolgere o cambiare niente e ha avuto soprattutto la fiducia da parte dei giocatori e ha ottenuto anche dei buoni risultati, pertanto è stata un'esperienza per lui, direi, importante. Magari sperava chiaramente di essere confermato un po' come tutti giustamente, quando fai bene pensi di avere delle considerazioni, però a Prandelli non si discute, è un paio d'anni che fuori dall'Italia, anche qualcuno in più, perché con la Nazionale adesso rientra in un lavoro di squadra, di club, pertanto lui per esperienza chiaramente, anche per i precedenti che ha avuto sicuramente un uomo di campo, far l'esigenza dell'Italia nazionale, è un po' diverso rispetto a come Lenare, mentre lui si sente più portato sul lavoro quotidiano e adesso ritornerà, secondo me, ad essere quello che abbiamo conosciuto quando era Firenze ed è sicuramente una persona di un equilibrio straordinario e anche capacità, pertanto penso che sia stata la scelta migliore che poteva fare la Lazio in questo momento. Lei nelle recenti interviste ha parlato... Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141b, consigli del Mago in sede e schedine già pronte e giocate per voi, fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141b, il posto migliore dove passare alla cassa.